Rispetto per la magistratura, sempre verifiche giudiziarie e legittime, rispetto per le vittime che piangono i loro morti. Noi ci abbiamo messo il massimo impegno e siamo stati accusati di tutto e il contrario di tutto. Sono le parole espresse da Giuseppe Conte nella sua prima tappa della visita a Udine a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimo Morettuzzo. La domanda sull'indagine che lo vede coinvolto dalla Procura di Bergamo per la pandemia. Parole espresse all'ispezione di un cantiere con Superbonus che ha anticipato l'incontro elettorale. Superbonus, un tema caro a Conte. Ecco per questo stiamo spingendo e aiutateci tutti in questa direzione perché ci sia una misura immediata per sbloccare la cessione e consentire la circolazione dei crediti. C'è il mondo bancario che può sicuramente acquistarli, riceverli. C'è il modello F24. Ci sono varie misure. Noi siamo pragmatici. Siamo disponibili a confrontarci con il governo per qualsiasi soluzione, ma che sia una soluzione immediata. Non è affatto facile perché abbiamo un governatore uscente, ma noi siamo convinti di poter offrire un progetto per il cambiamento di questa regione, per il rinnovamento del governo di questa regione, solido, concreto e soprattutto utile a migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini che vivono in questa regione. Il metodo, come sempre, per noi è garanzia di pervenire a elaborare un progetto credibile e utile. Lo abbiamo fatto nel confronto con le varie forze politiche. Lo abbiamo fatto non imponendo alcunché, ma richiamando quelli che sono i nostri principi e i nostri valori. Nella prospettiva di una giustizia ambientale, di una giustizia sociale, di un'etica pubblica da preservare col massimo rigore, tenendo alta l'asticella come prerequisito di ogni efficace azione politica. Grazie. 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 Grazie.